L'errore più comune che si fa, pensando alla difesa personale, ma ora stiamo parlando di difesa da attacco da coltello, è immedesimarsi, come già abbiamo detto, nel gioco, nello sport. Beh, se io prendo quello come esempio, come realtà, come mondo, come approccio, come filosofia, allora mi porterò dietro degli errori gravi che non conosco e quindi prenderò una strada sbagliata, criticherò un metodo corretto e porterò avanti uno errato. Tra questi errori tipici c'è quello sportivo, cioè di addestrarsi nella difesa contro uno da coltello come un po' andando di fretta, un po' pensando che certo tra i due il vantaggio è chi ha la mano armata, e allora si fa l'errore, come pensando sul ring, di aver perso già qualche round e quindi adesso devo spingere io. O nel calcio, visto che questi sono giorni di campionati europei, io non seguo il calcio, ma capisco anche io che se una squadra sta perdendo 2-0, non farà un gioco conservativo, ma cercherà di andare all'attacco, tanto ormai la partita è persa. Ecco, nella difesa personale non è così. Quindi, nella difesa personale, se sei di fronte a un aggressore, poi sei armato ancora peggio, ma vale per tutti, se sei contro un aggressore, se tu guadagni tempo, stai guadagnando magari la vita. Quante volte abbiamo sentito di una vittima, di un'aggressione? Ah, per pochi minuti, se avesse resistito un altro po', le forze di pulizia sono arrivate troppo tardi, o sono arrivate giusto in tempo. Cioè, non è come una partita di calcio, che stai perdendo 2-0 e quindi ti devi sbrigare. Nella difesa personale, a maggior ragione, se sono davanti a uno col coltello, guadagnare tempo è fondamentale. Perché quello col coltello, abbiamo detto, non è uno che ti vuole ammazzare, altrimenti ti avrebbe già ammazzato, non c'è difesa personale. Come posso a mia zia dirgli, guarda, vieni a imparare la difesa personale, cosicché se viene uno che ti vuole ammazzare dentro casa, ti difendi. Se ti vuole ammazzare, ok, ci mancherebbe la difesa contro uno armato. Ma noi studiamo, le forze di pulizia studiano, il guadagnare tempo. Se c'è un armato anche con la pistola, tu devi guadagnare tempo, anche se sei in grande svantaggio. Capite che è l'esatto contrario che faresti sul ring, l'esatto contrario che faresti in ogni sport. Cioè facciamo un esempio. Noi quando gareggiamo, quando uno gareggia ad alto livello, quindi per me parliamo del passato, hai un tuo spogliatoio, hai da bere, hai della frutta, hai il medico responsabile che ti controlla, hai il tuo team, eccetera. E se tu prima dell'incontro ti chiudi dentro a un armadietto, non so se c'è un armadietto, ma dentro al bagno, perdi l'incontro perché ti chiamano, non arrivi e l'incontro è bello perso. Ma capisci che se hai un aggressore e ti riesci a chiudere dentro a un bagno, magari guadagni 5 minuti e in 5 minuti si salvano le vite delle persone. Se noi siamo davanti a un assassino che ci vuole ammazzare, che difesa personale? Probabilmente mia zia, anche se l'aggredisce uno non esperto alla peggio, figuriamoci uno esperto e anche armato. Ok? Però se si riesce a chiudere magari dentro un bagno e dalla finestra inizia a urlare, magari qualcuno chiama la polizia e magari ce la può fare. La stessa cosa noi dobbiamo fare quando ci difendiamo dal coltello. Dobbiamo guadagnare tempo, magari urlare, magari cercare un contatto. e il 99% nella mia esperienza, io ho lavorato 11 anni, 5 sere a settimana, 5 notti a settimana in discoteca e di coltelli non visti veramente tanti. Chi prende già la coltellata è perché sta contro uno che già aveva deciso. La maggior parte di persone che tira fuori il coltello non è abituata a dare le coltellate, altrimenti il coltello non lo vedresti bene con quella persona lì, se ci parli guadagni tempo. La polizia parla anche con le persone armate di arma da fuoco, non parliamo noi con uno col coltello. Vuoi imparare a difenderti da aggressioni e prepotenze? Sono Danilo Capuzzi, il presidente della famosa Otsuka Club. Ho lavorato nella sicurezza per ben 11 anni e sono famoso perché per strada mi sono difeso decine di volte. Vuoi imparare a farlo anche tu? Fai una prova gratis con me, unisciti ai miei studenti, clicca il link che trovi nei commenti.